Questo è l'interporto fantasma di Arezzo ad indicatore, un'area che doveva essere il futuro anche del trasporto delle merci, un'area che è rimasta però fantasma, un'area che adesso è stata sigillata in una sua parte dai carabinieri forestali, area sottoposta a sequestro penale perché era diventata una discarica a cielo aperto. Il progetto di interporto venne inserito dalla regione toscana nel piano regionale dei trasporti nel 1998, la provincia lo inserì poi nel piano di sviluppo triennale insieme ai comuni e ad alcuni soggetti privati. Doveva nascere un centro intermodale di scambio merci tra rotaia e gomma, un progetto mai decollato, specie da quando il gruppo RFE decise di defilarsi. Lontana da occhi indiscreti, al buio, probabilmente quest'aria attirava chi voleva disfarsi in modo irregolare di rifiuti, di scarti da cantiere. L'aria spesso veniva ripulita ma poi si tornava di nuovo da capo con altri scarti, altri rifiuti che venivano abbandonati in questo interporto fantasma. Un'aria anche pericolosa perché ci sono anche dei tombini scoperti, aperti e quindi ci sono anche dei rischi, magari per qualche ragazzino che si avventura da queste parti, quindi un'aria che andrebbe messa anche in sicurezza sotto questo punto di vista. Intanto però l'aria è sotto sequestro e speriamo che serva ad evitare che continui ad essere una discarica.